Ora tu le stai, a Sarete, la prima velocità, il primo assetto, il proprio bene, la tappana, sempre, alta, alta Cristiano, Ronaldo, 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 c'è bene, c'è bene, c'è bene, la tisci bocca, c'è bene, la ternia, pura mi caro va a fare, come la torre, la trina, e il romanto, e la matto, e la Cristiano è il spin, oi a Cristiano, oi a Romanto, Sì, Sì, Sì Anche per l'amontra di Piteri in piccola giornata Grazie a tutti. Grazie a tutti.